Un'infanzia triste e una vita movimentata hanno portato Charles Manson a fondare uno dei culti più famosi della storia, The Family, così si chiamava. Nella setta vigeva lo stile di vita hippie e la passione per la musica, ma la realtà è che Charles voleva solo avere tante persone da sottomettere e manipolare. Questa è la storia di Charles Manson, uno dei leader più crudeli degli ultimi 50 anni. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e la storia di oggi sono sicuro che vi lascerai inquieti e anche un po' arrabbiati. Ne sono sicuro perché mi chiedete di parlarne praticamente da sempre e sebbene sia una storia molto conosciuta è probabile che non sappiate alcuni dettagli. Io in primis conoscevo la storia ma quando mi sono messo a cercare le informazioni per il video sono rimasto decisamente sconvolto da alcuni particolari. Adesso vedrete. Tanto per cominciare devo dirvi che nel corso del tempo i media hanno fatto davvero tanta disinformazione su questo caso. Dato che stiamo parlando di uno dei criminali più famosi della storia, purtroppo qualcuno ha frainteso alcune cose oppure le ha completamente modificate, esagerate. per renderle più assurde e macabre. Non sto dicendo che io sono la bocca della verità. Anzi, semplicemente è stata fatta un po' di speculazione e qualche esagerazione. Quindi ecco io cercherò di essere il più oggettivo possibile. Spero di non dimenticarmi niente ma se tra di voi c'è qualcuno che vuole condividere aneddoti o informazioni in più è libero di scrivere tutto qui sotto. Detto questo, cominciamo per davvero. Charles Manson nasce a Cincinnati il 12 novembre del 1934. La sua vita inizia in modo molto triste perché sua madre, Kathleen Maddox, in sostanza non lo voleva. Lei a quel punto ha 16 anni, è scappata di casa e vive in modo sregolato. Fa la prostituta e pensa soltanto a bere e a divertirsi. Praticamente non sa cosa farsene di questo bambino e vorrebbe abbandonarlo, darlo in adozione, perché fare la mamma non fa per lei. Diciamo che non gliene frega niente. La sua famiglia però interviene prima che sia troppo tardi e la costringono a tenersi il bambino e a prendersi le sue responsabilità almeno per una volta. E lei, dopo moltissime discussioni, alla fine decide di tenere suo figlio e lo chiama Charles Mills, Maddox. Dopo la nascita di Charles, sua madre in qualche modo riesce a risalire al vero padre biologico del bambino. Si tratta di un certo colonnello Scott, ma su internet non ho trovato altro sul suo nome. Sappiamo solo che è un operaio e che lavora presso una diga vicino a Cincinnati. Quest'uomo però, Scott, si rifiuta di occuparsi del figlio e dà tutta la responsabilità a Kathleen. Lei la prende malissimo ovviamente, ma non perché le importasse di Charles o del suo padre biologico, ma perché le dava proprio fastidio avere un figlio a cui badare. Lei, come vi ho detto, voleva solo bere, uscire e divertirsi. Comunque in un modo o nell'altro prova a crescere suo figlio, ma lo fa proprio contro voglia, senza mai mostrargli affetto. Pensate che lo lascia sempre dai nonni e lo vede davvero poche volte al giorno. I nonni fanno quel che possono per lui, ma Charles non li sente come suoi parenti. Il distacco della madre è così forte che il bambino cresce con la consapevolezza di essere indesiderato, di non servire a niente, ma non si deprime più di tanto, anzi. Intende far qualcosa. Comincia a prendere ad esempio le cose che fa sua madre, ovvero in pratica comincia a vivere anche lui facendo cose estreme e illegali. Kathleen intanto continua a fare come al solito, ma ad un certo punto finisce in carcere a causa di una rapina a mano armata. Charles è ancora piccolo a questo punto e così viene affidato prima dei vicini di casa, poi a degli zii in West Virginia. Praticamente viene spostato da tutte le parti, ma comincia già a sentire una sorta di distacco dalla realtà, per cui tutte le persone che lo accoglievano in casa per lui non valevano nulla. L'unica persona che ammira in quel periodo è sua madre, nonostante sia una persona molto discutibile. Nello specifico ammira quello che fa e vuole seguire le sue orme. Uscita di prigione nel 1943, Kathleen è costretta a occuparsi ancora una volta di suo figlio. Lei purtroppo però rimane sempre la stessa e nonostante sia passato del tempo, continua a non volerlo. I due vivono un po' come nomadi, passano la loro vita tra motelle e case di fortuna. Ma la donna dopo un po' di tempo non ne può più e cerca un modo definitivo per liberarsi di Charles. Cerca un'altra famiglia adottiva o un orfanotrofio e nel 1947 trova quello che fa per lei. Scarica Charles nel Gilbert Home for Boys, un istituto religioso per ragazzi in difficoltà. Ma allo stesso anno Charles, che ha solo 13 anni, fugge a gambe elevate da quell'istituto. Perché si dice che lì dentro il personale trattasse molto male i bambini, arrivando al punto di picchiarli in ogni modo e con ogni cosa possibile. E sinceramente non mi stupisco, in quegli anni gli orfanotrofio o comunque le strutture del genere erano davvero terrificanti e sicuramente non facevano passare un'infanzia serena a quei poveri bambini. Ma torniamo a Charles. Una volta fuggito dalla struttura comincia a commettere piccoli crimini qua e là. Non fa cose orribili o scandalose, ma diciamo che diventa un piccolo delinquente. E ragazzi, era ovvio che lo diventasse perché lui aveva conosciuto solo quel modo di vivere, non conosceva altro. E quindi ruba, rapina e distrugge cose altrui. Vive così. O almeno questo fino a quando viene arrestato per il furto di una bicicletta. È importante sottolineare che era già stato fermato più volte dalla polizia, ma aveva sempre trovato il modo di farla franca in... non so bene come. E mi sono anche dimenticato di dirvi che ha vissuto con un uomo di nome William Manson, dal quale ha poi preso il cognome. Però non sono riuscito a collocare cronologicamente questo evento, quindi sappiate che da un certo momento in poi cambia cognome e da Charles Mills Maddox diventa Charles Manson, quello che tutti conosciamo. Ma comunque, tornando a noi, Charles viene appunto arrestato per via del furto di una bicicletta. E di conseguenza, dato che era minorenne, viene mandato in vari istituti di correzione. Uno psichiatra analizza la sua situazione e capisce in fretta che il ragazzo è tormentato a causa di sua madre. Il rapporto travagliato che hanno avuto e, in generale, il modo in cui ha vissuto la sua infanzia lo hanno portato ad avere diversi problemi, tra cui un comportamento antisociale. Peccato però che nessun professionista dell'epoca sia stato in grado di mettere Charles sulla retta via. Infatti il ragazzo continua a creare problemi anche in questi riformatori. Puntualmente, il giovane prova a scappare da ognuna di queste strutture, ma ogni volta viene beccato. E a soli 16 anni si macchia di un reato federale. Praticamente porta un'auto rubata oltre il confine dello Stato e all'interno dell'auto, insieme a lui c'erano due prostitute. Per questo viene mandato per l'ennesima volta in un altro riformatorio, dove ovviamente continua a commettere crimini. Qui aggredisce i suoi compagni, tenta più volte la fuga e addirittura arriva a sottare un ragazzo puntandogli un coltello alla gola. Visti i suoi comportamenti pericolosi, forse sarebbe stato più opportuno tenerlo ancora dentro questi riformatori. Ma ragazzi, ad un certo punto viene liberato legalmente. Grazie alla buona condotta, e non so sinceramente come sia possibile, a metà del 1954, a circa 20 anni, ottiene la libertà condizionale. Torna da alcuni parenti in West Virginia, ma non è un rientro troppo felice. Perché mentre è lì con questi parenti, loro iniziano a vestirlo da donna e a trattarlo come tale. Sinceramente non ho trovato il motivo per cui facessero così, ma fatto sta che Charles non si trova affatto bene. E per questo torna di nuovo da sua madre. Questa volta però cerca di darsi da fare, crearsi una vita un po' più stabile. Vuole crearsi un futuro, vuole mettere su famiglia, e a modo suo cerca di sistemare le cose come può. In questo periodo conosce un'infermiera, una certa Rosalie Jeanne Willis, e diciamo che con lei si trova bene, per cui si sposano e lui trova lavoro come benzinaio e parcheggiatore. Il problema è che, come era per sua madre, la vita familiare tranquilla e sicura non fa per lui. Quindi si comporta esattamente come lei, se ne frega della vita di coppia e torna a compiere crimini di ogni tipo. Comincia a rubare delle auto per rivenderle oltre il confine dello stato, esattamente come aveva provato a fare a 16 anni. E ironia della sorte, viene arrestato di nuovo per lo stesso crimine. Ma grazie alle sue capacità persuasive che aveva sviluppato e alla gravidanza di sua moglie, riesce addirittura a manipolare lo psichiatra che lo stava esaminando. Questo psichiatra quindi mette una buona parola col giudice e gli concedono di nuovo la libertà vigilata. Pensate quali abilità bisogna avere per convincere uno psichiatra di determinate cose. È assurdo. Nel frattempo comunque nasce il suo primo figlio, Charles Manson Jr. E di questo figlio si sa davvero poco, perché in un certo senso vive una vita forse addirittura peggiore rispetto a quella di suo padre. Non conoscerà mai Charles e purtroppo si toglierà la vita nel 1993. Suo padre intanto continua con i suoi affari loschi e scappa anche dalla libertà vigilata. Ancora una volta però viene arrestato e portato nel penitenziario di Terminal Island, dove sconterà una pena di tre anni. Questo periodo di detenzione cambia tutto. È qui che avviene la vera svolta nella vita di Manson. Finora vi ho parlato di un ragazzo che è nato in una famiglia disfunzionale ed è cresciuto senza affetto, quindi era quasi scontato che sarebbe diventato un criminale. Ma questa volta, in questo carcere, sarebbe potuto davvero cambiare. Se in questo punto specifico della sua vita avesse incontrato delle persone buone, disponibili, disposte ad aiutarlo, forse oggi io non sarei qui a parlare di lui. Ma purtroppo, ancora una volta, il destino ha dei piani diversi per Charles Manson. Cioè, oddio il destino. Diciamo che se l'ha scelto lui a questo punto. Vi spiego. In pratica, in questo carcere, Charles fa amicizia con vari detenuti che lo accolgono quasi come fosse uno di famiglia. In realtà però ha la situazione più sottile e complessa. Diciamo che Charles entra in una sorta di gruppo di criminali che potrei definire quasi come un branco. Dentro questo branco impara molti metodi per diventare un pappone e gestire un business di prostitute. Quindi nessuno lo aiuta davvero in quegli anni e alla fine appunto entra in questo ulteriore giro criminale. Quando esce di prigione, fa un altro figlio con un'altra donna. Donna che però ormai considera come un oggetto. Dopodiché mette in piedi un'attività di prostituzione, ma ancora una volta viene arrestato. Il 27 aprile 1960, Manson viene incriminato e condannato a 10 anni di reclusione nel penitenziario di McNeil Island, nello stato di Washington. Lì conosce un altro gruppo di detenuti che sono ancora più pericolosi e ancora più disturbati dei precedenti. Questa volta Manson incontra persone molto particolari e discutibili. Criminali dediti all'occulto, alla necromancia, all'ipnotismo e alla magia nera. Lui si appassiona a tutte queste cose e comincia a studiarle, ma le persone intorno a lui credono anche a tantissime altre cose, anche a teorie del complotto. Per cui gli inculcano tutta una serie di idee e credenze che non faranno altro che tormentare la sua psiche, già fragile in partenza. Alcuni di questi detenuti però gli introducono uno stile di vita più libero, costituito da meno crimini. Così Charles Manson viene a contatto con lo stile di vita hippie, ma nello specifico viene a contatto con il modo più estremo di essere hippie. Quindi Charles conosce e comincia ad apprezzare uno stile di vita basato sul sesso libero, sul non lavorare mai, sul fregarsene della legge e sul farsi di droghe pesanti come l'LSD. E tutto questo sostanzialmente per apprezzare la vita in maniera più semplice, senza leggi, senza vincoli e senza alcun freno. Grazie o a causa di queste persone che gli spiegano queste cose, lui riesce a diventare anche molto più bravo nel parlare e nel manipolare. Aveva già una dote innata, ma in questo periodo la affina in maniera quasi spaventosa. Riesce a diventare ammaliante e a saper conquistare le persone con il suo carisma. Capisce che la vita da semplice criminale non gli basta più, non fa più per lui. Adesso vorrebbe tanto stare in una comunità hippie estrema e vivere secondo il suo personalissimo e distorto schema. E qual è questo schema? Semplice. Trovare dei seguaci e creare una setta. Durante il periodo in prigione Charles comincia a suonare la chitarra, ma il suo maestro era un membro di una gang pericolosissima. Così Charles scopre il lato più romantico, tra virgolette, della vita criminale, se così possiamo dire. Per cui comincia anche a scrivere testi di canzoni che parlano in modo fatale della vita e adora scrivere questi testi e suonare la sua musica. In questo periodo si esercita in maniera quasi ossessiva sia nello scrivere testi che nel suonare la chitarra. Non si rende conto però che mentre lui è lì in carcere a scoprire tutte queste cose, fuori il mondo sta cambiando. Manson non vede l'ora di scontare la sua pena, uscire e trovare della gente da manipolare con cui vivere insieme secondo le sue regole. Ma appena mette piedi fuori dal carcere nel 1967 si rende conto che non sarà così semplice. Nei sette anni di reclusione di Charles sono successe un bel po' di cose che hanno cambiato profondamente la società. In quel periodo infatti inizia la guerra in Vietnam, c'è il famosissimo discorso di Martin Luther King, poi il 2 luglio del 64 viene approvata la legge sui diritti civili che equipara i neri e i bianchi e infine tutta la faccenda attorno al presidente Kennedy. Insomma il mondo è andato avanti e per lui è diventato quasi del tutto incomprensibile. Se ricordate avrebbe dovuto passare dieci anni dietro le sbarre, ma alla fine viene rilasciato su cauzione nel 67, scontandone poco più di 6. Ma una volta uscito Manson non ha più una famiglia, non ha soldi e neanche un lavoro. Ha solo le sue quattro cose e una chitarra. Per qualche motivo comincia ad odiare gli afroamericani e diventa profondamente razzista. La sua idea di comunità in sostanza è composta solo da bianchi, senza eccezioni. Ma oltre a questo come se non fosse abbastanza, in quel periodo comincia a considerare tutte le donne come oggetti. Per cui comincia a viaggiare un po' per gli Stati Uniti, in cerca chiaramente di donne che gli facessero da serve. E miracolosamente riesce ad attirare qualcuno. Ora ha 33 anni e si reca a San Francisco, considerata in quegli anni la capitale degli hippie. Le prime donne che riesce a manipolare si chiamano Mary Brunner, Lynette Fromm e Susan Atkins. Loro tre sono le prime Charlie's Girls, le ragazze di Charlie. Mary era assistente bibliotecaria prima di conoscere Manson. Lynette invece era scappata di casa, mentre Susan, sentite bene, desiderava tantissimo stare con Charles, al punto da fare l'amore con lui immaginandoselo come suo padre. Si tratta chiaramente di persone fragili che avevano abbracciato lo stile di vita hippie e che erano estremamente affascinate da Manson. In lui vedevano libertà, ribellione e sicurezza. Volevano conoscere tutto di lui e si fidavano ciecamente perché ai loro occhi lui era l'incarnazione del desiderio, di una vita senza freni, libera dalle norme della società. Le tre ragazze all'epoca sono davvero giovanissime, poco più che maggiorenni e per tutti questi motivi di cui vi ho parlato decidono di seguire il loro nuovo messia. Si dice che sempre a San Francisco Charles Manson abbia frequentato la sede di Scientology, ma non è una cosa certa. Di sicuro sappiamo che in quella città comincia a partecipare a dei festini in cui tutti si danno alla pazza gioia, vi lascio immaginare. E come potete altrettanto immaginare si abitua molto in fretta a questa vita da nomade senza regole. In questo ambiente spera di realizzare il suo sogno e sfondare nel mondo della musica. Intanto il suo piccolo gruppo di seguaci si espande. Manson comincia a reclutare anche degli uomini, pochi ma essenziali per il suo gruppo perché ognuno avrà un ruolo e una funzione specifica. Le nuove adepte donne, tutte rigorosamente bianche, vengono spinte a prostituirsi e credo che non fossero obbligate. Cioè, probabilmente se non l'avessero fatto Charles si sarebbe incazzato, si sarebbe infuriato come non mai e l'avrebbe punite. Però anche loro volevano farlo in primis. E non perché fosse il loro obiettivo nella vita, ma perché erano state persuase e manipolate a fondo da Manson. E quindi pensavano fosse la cosa giusta per loro e per il loro gruppo. Mi sono spiegato. Invece comunque gli adepti uomini, anche loro rigorosamente bianchi, vengono spinti a spacciare stupefacenti un po' ovunque. E anche qui. Anche loro erano stati manipolati, quindi pensavano di volerlo fare davvero. Ma alla fine Manson si stanca di San Francisco e vuole cambiare aria. Così convince il suo gruppetto a viaggiare on the road su un vecchio autobus scolastico ridipinto interamente di nero. E una volta partiti, comincia finalmente a stare davvero bene, come non si era mai sentito in tutta la sua vita. È un periodo meraviglioso per lui perché è riuscito a trovare il suo posto nel mondo. O meglio, è riuscito a crearselo. È un posto nel mondo molto particolare e pericoloso, ma a lui va bene così. È fiero di ciò che ha costruito. I membri del suo gruppo devono obbedire ai suoi ordini senza discussioni. E a lui piace tantissimo questa cosa. Perché lui usa una tecnica manipolatoria molto potente. È in grado di far sentire le persone inutili e buone solo a stare alle sue dipendenze. In sostanza, annulla totalmente ogni membro del gruppo. E li porta tutti a credere che senza di lui sarebbero inutili. Sarebbero spazzatura. Oltre a questo, Manson si autoproclama la reincarnazione di Gesù e Satana allo stesso tempo. E gli adepti lo seguono davvero come un messia. A questo punto direi che si può parlare di una vera e propria setta. E lui è sempre al centro di tutto. Stando alle informazioni che ho trovato online, a quanto pare Manson ha anche fondato un movimento ambientalista chiamato ATWA. A-T-W-A. che sarebbe l'acronimo di AIR, Trees, Water e Animals. E sarebbe un movimento che si è battuto per salvaguardare la natura e gli animali. Ma in realtà non si sa se abbia portato a qualche risultato. Però al di là di tutto questo, durante il vagabondaggio della setta, il leader diventa di nuovo padre. E da questo punto in poi continuerà a fare figli. Non sappiamo nemmeno il numero esatto. Verso la fine del video vi parlerò di uno di loro nello specifico. Ad ogni modo, ricordate il sogno più grande di Manson? Lui voleva sfondare nel mondo della musica e durante il vagabondaggio non si è mica scordato dei suoi obiettivi. Anzi, in questo periodo ascolta tantissimo i Beatles. Sente come una sorta di connessione con loro. Non solo sono la sua band preferita, ma avverte proprio una sorta di affinità mistica, quasi profetica. E quindi vuole essere come loro e fa di tutto per provarci. Praticamente un giorno nel 68, Dennis Wilson, un membro della band Beach Boys, raccoglie due autostoppiste e le porta a casa sua a Pacific Palisades per fare cose sconce. Ma questo Dennis non sa che le due autostoppiste sono in realtà due delle Charlie's Girls, quindi due adepte di quella famiglia di Charles. Si tratta di Patricia Krenwinkel e Ella Joe Bailey. Una volta consumati i rapporti, Dennis decide di uscire lasciandoli lì a dormire, ma ritornando a casa il mattino seguente trova Manson in salotto che lo saluta come se niente fosse. A disagio Wilson gli chiede se volesse fargli del male e Manson gli assicura che non aveva nessuna intenzione di arrecargli alcun danno, dopodiché si inginocchia e gli bacia i piedi. Dentro casa Wilson scopre altri 12 individui al seguito di Charles, per la maggior parte giovani donne, e da questo incontro stranamente si instaura tutta una rete di conoscenze e di promesse che porterà Manson in suo gruppo a stazionare per mesi a casa di questo membro dei Beach Boys. Il leader ovviamente approfitta di questa nuova opportunità per farsi conoscere nel mondo della musica, quindi parla con i Beach Boys e con tutto il loro team per ascoltare i suoi brani e registrare dei pezzi. Dennis Wilson inizialmente è davvero entusiasta di lui, della sua musica e anche della sua strana family. Non solo gli fa registrare la demo di una canzone a sue spese, ma vuole anche girare un documentario su di lui e sulla sua setta. Così li presenta alcune persone del settore per introdurlo nell'ambiente, inclusi Greg Jacobson, Terry Melcher e Rudy Altobelli, il proprietario di una casa che aveva affittato all'attrice Sharon Tate e a suo marito Roman Polanski. Il primo, Jacobson, avendo fiducia sulla musica di Manson, lo fa registrare in studio. Melcher invece è molto meno impressionato dal suo talento e in sostanza prova a distruggere i sogni di Charles. Dennis Wilson in tutto ciò è molto di supporto e decide di includere una canzone di Manson nell'album dei Beach Boys chiamato 20-20 del 1969. Inizialmente, e secondo consiglio di Manson stesso, la canzone avrebbe dovuto chiamarsi cease to exist, ovvero cessa di esistere. La traccia però viene rielaborata e reintitolata Never Learn Not To Love, non imparare a non amare. Dopo le varie rivisitazioni non viene neanche riconosciuto alcun credito compositivo a Manson e questo suscita in lui non poco rancore. Per via di tutte queste cose, Manson arriva a minacciare di morte Dennis. In merito a ciò, un collaboratore dei Beach Boys ha raccontato una di queste minacce dicendo che un giorno Manson mostrò un proiettile a Dennis e quest'ultimo gli chiese, cos'è? E Manson rispose, è un proiettile. Ogni volta che lo guardi, voglio che pensi quanto sia bello che i tuoi figli siano ancora sani e salvi. Quindi a questo punto Dennis Wilson si rende conto della pericolosità effettiva di Manson e dei suoi adepti e decide di andarsene di casa, senza però sfrattare Manson e la sua setta. Non li sfratta, chiaramente, per paura di una vendetta. Alla fine però, stanco della cerchia di hippie strafatti e inquietanti che lo circondavano, chiede al suo manager di mandarli via. Ma quando Manson trova un'altra sistemazione più favorevole per sé e per la sua family, lascia le abitazioni di Dennis e mette un proiettile nella cassetta delle lettere. Una strana e inquietante minaccia di vendetta. Manson non si sarebbe mai aspettato un torto del genere. Anche perché ormai era abituato ad avere tutto quello che voleva e il tradimento di cui parliamo sono semplicemente le modifiche nel testo e nel titolo della canzone. Non è che Dennis avesse fatto chissà cosa contro di lui, anzi probabilmente non era stata neanche una sua scelta quella di fare le modifiche. Anche perché dietro pubblicazioni di musica chiaramente ci sono timi interi di persone. Ma comunque Manson si sente tradito e vuole vendicarsi a tutti i costi. E per farlo convincerà se stesso e anche la family che devono organizzarsi per sopravvivere all'imminente apocalisse. È assurdo che praticamente tutte le sette di cui abbiamo parlato, e mi sto incazzando, si stavano preparando per un'apocalisse. È proprio un elemento che c'è quasi sempre e che di solito precede dei terribili epiloghi. E ci sono tuttora attive, piene di persone, pieni di adepti, sette che pensano stia per arrivare all'apocalisse. E si preparano. Ma tornando a noi, Manson inizia ad odiare tutte le persone ricche e comincia a credere davvero che il mondo presto sarebbe finito. Nella sua testa però solo lui e i suoi seguaci sarebbero sopravvissuti, a patto che seguissero le sue assurde istruzioni. In questo periodo molto difficile per Manson esce il White Album dei Beatles, che contiene la canzone Helter Skelter. Ecco, essendo Manson un fan sfegatato dei Beatles, ma a modo suo, interpreta questa canzone come un messaggio che la band gli sta mandando. E così sviluppa l'idea dell'imminente apocalisse. Secondo ciò che ho trovato online, gli Helter Skelter sarebbero quegli scivoli lunghi e colorati che c'erano nei Luna Park in America molti anni fa. E vista la struttura particolare di questi scivoli, nel tempo la parola Helter Skelter ha assunto il significato di qualcosa di molto confuso e disordinato. Probabilmente i Beatles hanno giocato sul doppio senso di queste parole, mentre Charles Manson ne ha stravolto completamente il significato. Per lui Helter Skelter significa rivolta. Lo interpreta come uno scontro razziale che secondo lui i neri avrebbero scatenato contro i bianchi. Ce ne vuole di fantasia. Convinto di questa sorta di lotta tra razze, spiega ai suoi adepti che gli afroamericani saranno i primi a vincere decimando la popolazione mondiale. Ma, e cito le sue parole, saranno troppo stupidi per governare il mondo. Dice loro che quindi sicuramente avrebbero chiesto alla family, che è sopravvissuta perché già sapevano che tutto ciò sarebbe accaduto, di diventare la loro guida in modo da rimediare ai danni che avrebbero fatto. Cose assurde e al limite della compressione, ma fatto sta che per lui questa sarebbe stata l'apocalisse. Continua a dire che solo lui e la sua family si sarebbero salvati, perché solo loro avevano capito questo piano in anticipo e quindi potevano organizzarsi, potevano nascondersi. Ai nostri occhi la teoria dell'elter skelter di Manson sembra ridicola, però a quanto pare a fine anni sessanta in America in molti temevano una guerra civile di stampo razziale. Quindi Charles in sostanza ha preso questo timore generale e l'ha alimentato con tutta la sua follia ed estremizzazione. Per via di tutto ciò, a fine anni sessanta, lui e il suo gruppo si muovono con più cautela. Si spostano tutti a vivere in vari punti isolati, come vecchi parchi pubblici, vecchi ranch, o comunque ranch ancora in attività, o rifugi nel deserto vicino a Las Vegas, nella Death Valley, valle della morte. Tutti sono obbligati a cantare solo ed esclusivamente canzoni di Manson e dei Beatles a ripetizione. E per farvi capire quanto ormai fosse malata la situazione, tra una canzone e l'altra Charles ogni tanto inscenava la sua crocefissione e predicava come se fosse Gesù. Ma comunque oltre alle solite attività criminali, la family in questo periodo si macchia di sangue e compie il suo primo delitto. Come vi ho detto, Manson attendeva l'apocalisse, ma dato che non scoppiava, o comunque non c'erano segni evidenti dell'inizio di una guerra razziale, decide di farla cominciare lui. E lo fa, con il primo, di numerosi omicidi. Tutto comincia la sera del 25 luglio 1969, quando gli adepti Bobby Bosoleil, Susan Atkins e Mary Brunner si presentano a casa di un certo Gary Hinman, musicista. Questo Gary, in passato, aveva venduto della droga alla Manson Family, che a sua volta l'aveva rivenduta ad un gruppo di motociclisti molto pericolosi, gli Straight Satans. Questi ultimi, dopo aver usato le sostanze, si sono lamentati con Bobby Bosoleil dicendogli che era roba scadente e che volevano indietro i soldi. Così l'adepto ha informato Charles Manson che gli ha ordinato di andare dal fornitore originale, Gary Hinman, per chiedergli i soldi da ridare agli Straight Satans. Così, nella sera del 25 luglio del 69, Bobby e le altre due adepte si presentano a casa di Gary e cominciano a chiedergli soldi. Lui però dice di non averne e in sostanza non può aiutarli. Così Bosoleil avverte Manson che ordina i seguaci di rimanere a casa con Gary e tenerlo legato finché non sarebbe arrivato. Passano due giorni, durante i quali i tre adepti continuano a fare pressioni sulla vittima per questi benedetti i soldi, lo picchiano anche. Non è che stanno fermi. Quindi finalmente arrivano ad una sorta di conclusione quando Gary dice che avrebbe potuto dare loro una delle sue macchine che, a loro volta, avrebbero potuto dare agli Straight Satans. Ma purtroppo questo accordo non sarà abbastanza. Il 27 luglio Manson arriva nell'abitazione e, usando una spada, motta un orecchio a Gary. Dopodiché ordina a Bosoleil di ucciderlo. E quest'ultimo lo fa, cominciando a pulgarlo senza sosta. Dopo averlo ucciso, e qui ci ricolleghiamo all'apocalisse, Bosoleil scrive su una parete Political Piggy, ovvero porcellino politico, e lo scrive usando il sangue della vittima. Poi, sempre col sangue, lascia un'impronta simile al simbolo delle pantere nere, che sarebbe un'organizzazione politica afroamericana. Capite dove vogliono arrivare? Manson vuole che la polizia veda il simbolo e che pensi siano stati le pantere nere a compiere l'omicidio. In questo modo sarebbe iniziato l'elter skelter. Ergo, secondo Manson, l'apocalisse. I piani però non vanno come previsto e il 6 agosto del 69, Bosoleil viene arrestato. Era stato fermato alla guida dell'auto di Gary Hinman e la polizia aveva trovato l'arma del delitto nel bagagliaio. Ma la family non si scoraggia, e anzi è più unita che mai. Per questo cercano di escogitare un modo per far uscire Bosoleil dal carcere. In sostanza quindi che cosa avviene in mente, alla mente geniale di Manson? Di compiere altri omicidi. Manson pensa che commettendo altri crimini e omicidi, siglandosi come pantere nere, sarebbero riusciti a scagionarlo, perché lui era in prigione e quindi non sarebbe potuto essere colpevole né di questi né di conseguenza del primo omicidio. Nella sua testa la polizia avrebbe pensato che sarebbero per forza stati degli afroamericani e così il suo adepto sarebbe uscito e i suoi piani si sarebbero compiuti. Decisamente folle. Ma lui è convinto di tutto ciò, per cui si mette a cercare il suo prossimo bersaglio. Pensa a qualcuno di ricco che odia profondamente, e gli viene subito in mente un nome. Terry Melcher. Se ricordate, Terry era uno di quei produttori che Manson aveva conosciuto durante il suo soggiorno da Dennis Wilson, ed era proprio quello che aveva rifiutato di pubblicare la sua musica. Charles lo odiava, ma non doveva per forza essere lui la vittima del prossimo omicidio. L'importante era che fosse qualcuno di benestante la cui morte avrebbe suscitato scalpore, sempre con l'obiettivo di dare la colpa agli afroamericani e far cominciare l'apocalisse. Così Manson, pensando a Terry Melcher, si ricorda dove abitava, e si ricorda anche che a marzo dello stesso anno del 69 era stato in quell'abitazione, ma durante la sua visita Terry non era più lì, il che significa che era solo in affitto. La casa infatti era di proprietà di Rudy Altobelli, e i nuovi inquilini erano Sharon Tate e Roman Polanski. Per cui il bersaglio di questo piano malato si sposta da Melcher a chiunque vivesse in quella casa al 10.050 di Cielo Drive. Così, solo due giorni dopo l'arresto di Bosoleil, Manson raduna tutti i membri della sua setta e dice queste esatte parole. Ora è giunto il tempo dell'Elter Skelter. Ed è in questo modo che ebbe inizio quello che ora tutti ricordiamo tristemente, come l'eccidio di Cielo Drive. Roman Polanski, famosissimo regista, nell'agosto del 69 si trova a Londra per la realizzazione di un film, ma ha in programma di tornare a casa di sua moglie nel giro di qualche giorno, da sua moglie non di sua moglie, perché Sharon Tate è incinta da più di otto mesi e sta per partorire. Il venerdì 8 agosto del 1969 quindi Sharon invita alcuni amici a dormire da lei nella villa di Cielo Drive. Questi amici sono Jay Sebring, un air stylist di fama internazionale, nonché suo ex fidanzato, con cui è rimasto in ottimi rapporti, poi Abigail Folger, famosa filantropa, insieme a suo compagno Wojtek Friakowski. Credo di averlo pronunciato male. Comunque sono tutti persone benestanti che vogliono godersi un tranquillo venerdì sera, ma Charles Manson ha in mente dei piani diversi per loro. Tuttavia questa volta non vuole intervenire in prima persona e manda quattro dei suoi adepti. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian. Sono tutti vestiti di nero e armati di pugnali, una corda di nylon e una pistola calibro .22. Arrivano di nascosto alla villa di Cielo Drive, ma vedono che nel vialetto c'è un'auto parcheggiata. A suo interno c'è un giovane, una persona che neanche era prevista nel piano, un certo Steve Parent. Il giovane si trovava lì per parlare col custode della villa a cui doveva vendere una radiosveglia e in quel momento stava per andarsene. Questo Steve però ad un certo punto vede gli adepti seminascosti e comincia a chiedere chi fossero e cosa facessero lì. Risposta, senza pensarci neanche troppo, Tex Watson gli spara per ben quattro volte. Il custode intanto non sente né vede nulla e non si accorge di ciò che sta succedendo. Quindi Tex, indisturbato, per impedire che qualcuno chiedesse aiuto, si mette a tagliare i fili del telefono. Poi entra nella villa da una finestra e apre la porta di casa agli altri suoi compagni. Linda, una del gruppo, resta in auto perché è l'unica in possesso di una patente regolare e in questa missione serve solo come supporto non appena dovranno scappare. Ma comunque è passata a mezzanotte, perciò è ufficialmente il 9 agosto. Bojtek, uno degli amici di Sharon Tate, sta dormendo sul divano in salotto, ma all'improvviso si sveglia a causa dei rumori sospetti. Davanti a sé trova Tex e, confuso, gli chiede chi fosse e che ore fossero. Lui in risposta gli dice di essere il diavolo venuto a fare il lavoro del diavolo. Poi lo prende a calci in testa e lo lega con un asciugamano. Intanto Susan Atkins porta in salotto le altre persone presenti in casa. Quindi Tex, con la corda di nylon, lega per il collo Jay Sebring e Sharon Tate. Quando Jay prova ad urlare, a fare qualcosa per ribellarsi, sempre Tex gli spara e continua ad infierire poi dopo con un pugnale, come se non fosse già morto. I adepti poi permettono ad Abigail di tornare in camera per prendere circa 70 dollari e intanto il suo compagno Wojtek si libera e prova a fuggire. Ma l'adepta Susan lo punta alle gambe. Poi una volta arrivato sulla veranda, Tex lo colpisce alla testa con il calcio della pistola che si rompe in tre parti, dopodiché lo punta per 51 volte e infine gli spara per due volte. Dopo tutto ciò, anche Abigail in preda al panico tenta di fuggire. Va verso la piscina correndo, ma Patricia la raggiunge e la punta morte con 38 coltellate. Sharon Tate intanto ancora in salotto supplica agli adepti di lasciarla vivere almeno fino a quando non avrebbe partorito e si offre addirittura di fare da ostaggio per salvare il bambino che aveva in grembo. Ma in risposta, Susan Atkins le dice queste parole strazianti. Smettila di fregnare, pu*****a. Non ce ne frega un c***o che sei incinta. Poi, insieme a Tex, la pugnala per 16 volte, uccidendosi a lei che il bimbo che aveva in grembo. Aveva solo 26 anni. Con un asciugamano sporco del suo sangue scrivono la parola pig, maiale, sulla porta d'ingresso. E una volta terminata la strage, gli assassini raggiungono l'inda in auto. Sulla via del ritorno si cambiano e buttano coltelli e vestiti sporchi di sangue in giro per le colline circostanti. È stato un massacro davvero atroce. Ma la cosa assurda è che Charles Manson non è rimasto soddisfatto da come hanno agito i suoi seguaci. Avevano creato troppo scompiglio, secondo lui. Per questo, già la sera dopo, decide di mettersi personalmente a capo di una nuova missione, così da mostrare agli adepti come si fa. Ancora una volta, il gruppo non cerca vittime specifiche, ma semplicemente un luogo conosciuto e abitato da bianchi benestanti. Un luogo che sarebbe potuto essere il bersaglio di estremisti neri, così da scaricare la colpa su di loro. Questa volta scelgono di andare dentro la casa dei coniugi La Bianca, che avevano già visitato circa, in passato, senza uccidere nessuno. Adesso però non hanno alcuna pietà e non gli importa delle conseguenze. Vogliono solo far cominciare l'elter skelter. Prima di parlare di ciò che è successo, però, vi presento gli sfortunati bersagli di questa pazza missione omicida. Leno La Bianca, di origine italiana, è un dirigente d'azienda, mentre sua moglie, Rosemary, è un'imprenditrice di successo che gestisce una catena di negozi. Sono entrambi al loro secondo matrimonio e insieme stanno particolarmente bene, ma purtroppo, menso negli altri, rovineranno per sempre tutto ciò che si erano costruiti. Lui e Tex quella notte scendono dalla macchina, entrano in casa e svegliano il signor Leno, che stava dormendo sul divano del soggiorno. Lo vedono molto agitato e tentano di tranquillizzarlo. Stranamente non lo uccidono e si mettono solo a rubare un po' in giro. Charles poi dà a Tex uno dei suoi lacci delle scarpe per legare le mani del signor La Bianca, mentre lui va in camera da letto a prendere pure sua moglie, la moglie del signor La Bianca. Quindi porta anche lei in soggiorno dove viene legata al marito spalle contro spalle. A questo punto Manson dice alla coppia che non gli avrebbero fatto del male, quindi se ne va e torna in macchina. Quella sera, oltre a Tex e Manson, ci sono anche i quattro della sera prima a Cello Drive e gli adepti Leslie Van Houten e Steven Grogan in più. Per cui una volta in macchina Manson ordina a Patricia Krenwinkel e a Leslie Van Houten di raggiungere Tex in casa dei La Bianca e sostanzialmente dice loro di fare piazza pulita. I tre avendo già immobilizzato le vittime avrebbero potuto togliergli la vita in modo rapido e veloce, ma Tex decide di portare la moglie in camera da letto per poi cominciare a colpire ripetutamente Leno con un pugnale. Rosemary, sentendo le urla di suo marito, comincia a divincolarsi e a gridare con tutte le sue forze. Essere è stata una scena veramente orribile. Intanto le altre due adepte sono molto impacciate e non si aspettavano una situazione del genere. Allora Tex, dopo aver ucciso Leno la Bianca, pugnala anche sua moglie con tutta la rabbia che ha in corpo. Poi ordina anche alle altre di farlo e in totale colpiscono la donna con 41 coltellate. Dopodiché i tre tornano in suo giorno e infieriscono nuovamente sul cadavere del signor Leno. Gli incidono una serie di X e la parola war, guerra, sull'addome usando un forchettone. Poi gli infilano un coltello da cucina in gola. Con il suo sangue scrivono sul muro rise a death to pigs, ovvero ascesa e morte ai porci. E infine sul frigorifero scrivono helter skelter, che per loro vuol dire apocalisse. Ma lo scrivono sbagliato perché aggiungono una A di troppo, scrivono he-alter. Quindi manco sapevano scriverlo. Ma al di là di queste piccolezze che per loro non hanno tanto valore, con una freddezza glaciale, si fanno la doccia nella stessa casa dove hanno sparso sangue ovunque. E per non farsi mancare niente rubano anche del cibo dal frigorifero. Una volta finito tutto ciò, sono costretti a tornare dagli altri in autostop perché Manson intanto se n'era andato. Perché aveva in mente un altro piano ancora. Ve la ricordate Linda? Nella prima strage aveva fatto da palo aspettando in macchina l'arrivo dei suoi compagni. Ecco lei, essendo entrata da poco nella family, non era ancora stregata al 100% da Charles. Anzi, è una dei pochi che considerava l'omicidio come una cosa orribile. A Manson però questa cosa chiaramente non piace e si convince che anche lei, per mostrargli fedeltà, deve uccidere qualcuno. Così l'uomo ordina a Linda e ad altri adepte di togliere la vita ad un certo Saladin Nader, un attore di origine libanesi che in passato aveva avuto rapporti con la family. Linda però non lo vuole fare, vuole ribellarsi. Anzi direi che è forse l'unica che dopo tutti questi orrori vuole farla pagare a Manson. Una che è rimasta un po' sana. E non è da poco perché con tutta la manipolazione che c'era dietro ragazzi, tutti sarebbero potuti cadere vittime di questa cosa. Comunque Linda si dimostra molto furba perché finge di accettare la missione ma poi bussa alla porta di un vicino della vittima, lo avvisa della situazione e quindi di fatto salva le vita a Saladin Nader. Susan Atkins però, una delle fedelissime di Manson, si incazza un bel po'. Ed ha fastidio che il bersaglio non sia morto, così, e ve lo giuro che non sto scherzando, gli fa la cacca nell'androne del palazzo. Così, come vendetta. Ma per concludere tutta questa parte legata a crimini e follie vi devo parlare dell'ultimo delitto ufficiale della family. Non se ne parla molto ed è un vero peccato. Anche questa volta infatti Manson i suoi seguaci sono stati davvero brutali. La vittima si chiama Donald Shorty sci ed è un ex stuntman e tutto fare presso lo Spun Ranch, il luogo dove stavano Charles e la sua family. Quest'uomo non ha mai sopportato quella setta e in quel periodo stava cercando di rifarsi una vita, cosa difficile avendo loro intorno. Per questo motivo c'era un po' di astio tra lui e la family. Perciò un giorno, Tex, Manson e altri due adepti allontanano Donald per dargli una lezione. Lo uccidono in modo brutale e lo seppelliscono tra le colline dello Spun Ranch. Il suo corpo verrà ritrovato solo nel 1977. Dopo una ventina di giorni dall'ultimo delitto, tutta quanta la setta si trasferisce di nuovo. Per anni sono stati in giro tra Messico, Nevada, Arizona e Nuovo Messico, mentre adesso si stabiliscono nella Death Valley, il parco nazionale della California. Creano un vero e proprio accampamento con tende, strutture di fortuna e cose del genere, ma durante questi spostamenti e già durante i primi delitti, i detective stavano lavorando duramente per risolvere tutti i casi. E solo dopo un po' di tempo capiscono che devono cercare una persona sola, una persona che controlla tutto un gruppo. Per molto tempo hanno pensato che i delitti della family fossero tutti diversi, compiuti da persone diverse e commoventi diversi. Ma alla fine, dopo tantissimo lavoro, gli agenti capiscono come sono andate veramente le cose. Fanno irruzione al parco in cui vive la family e, per l'ultima volta, Manson viene arrestato assieme alla maggior parte dei suoi discepoli. Per molti questo mega arresto di gruppo è stato uno shock, perché sì, qualcuno conosceva Manson e tutto ciò di Losco che girava intorno a lui, ma la maggior parte delle persone non si sarebbe mai aspettato tutto ciò. Anche Susan Atkins viene arrestata e viene portata al carcere femminile di Los Angeles. E lì, la donna fa una cosa tanto ridicola quanto importante per questa storia. Ovvero racconta alle sue compagne di cella tutti i crimini che aveva commesso insieme alla setta di Manson. Praticamente si mette a raccontare tutto senza pensare a nessuna conseguenza di questa cosa. E infatti con l'inchiesta ancora in corso, una di queste compagne di cella racconta tutto alla polizia. È così che i primi segreti della setta vengono a galla e vengono raccontati al mondo intero. Ormai il danno è fatto e Charles non può fare altro che negare fino alla fine. La sua faccia è su tutti i giornali, su tutte le radio e su tutte le televisioni d'America. E grazie anche alle testimonianze di Linda, la ragazza che fece da palo la sera dell'ecidio di Cielo Drive, ogni singolo segreto viene svelato. Tutto ciò che Charles si era costruito, viene distrutto da un giorno all'altro per fortuna e nel 1970 comincia il processo. Quello che fa in aula diventa iconico per moltissimi, sentite. Praticamente si presenta prima con una croce cristiana disegnata, poi con una X incisa sulla fronte, in seguito si presenta invece con l'incisione modificata da una X e la trasformata in una svastica. Ma comunque il processo è entrato nella storia degli Stati Uniti per la sua lunghezza, quasi un anno. Lui infatti nelle varie udienze continuava a dichiararsi innocente, ma ecco che Susan Atkins rivela una cosa ancora più scioccante. Dice che Charles aveva in programma di uccidere persone famose nello show business come Liz Taylor, Steve McQueen, Tom Jones, Richard Burton e persino Frank Sinatra. E insomma dopo un processo veramente allucinante, alla fine del 29 marzo 1971, Manson e gli altri membri accusati vengono condannati a morte. Questa dovrebbe essere la fine del caso, in teoria. Tutto poteva concludersi così, ma ci sono altre cose che devo dirvi, delle novità che nessuno si aspettava. Un anno dopo la condanna, solo un anno dopo, lo stato della California abolisce la pena di morte, così Charles e gli altri si ritrovano con una pena modificata, con l'ergastolo, quindi dovranno restare in prigione a vita. Ma ovviamente Manson non accetta niente di tutto ciò e come è fuggito altre volte quando era giovane, pensa di poterlo fare anche adesso. Continua a chiedere la libertà condizionale, ma puntualmente gli viene respinta. E ragazzi lui continua in perterrito a richiederla, ogni volta che può. Pensate che il 25 maggio del 2007 arriva all'undicesima richiesta di libertà vigilata, che però chiaramente viene respinta. Lui però ci riprova un'ultima volta nel 2012, fallendo miseramente. E arrivati a questo punto, dopo tutto quello che è successo e dopo tutto quello che vi ho raccontato, voglio farvi vedere una brevissima intervista fatta a Manson mentre era in carcere. Con queste pochissime immagini capirete che tipo di persona era. People look at you today, twenty years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence, who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor, if you get too close to me. Il 1 gennaio 2017, in prigione, Manson viene trovato in pessime condizioni, ha varie perdite di sangue e viene trasportato d'urgenza presso il Mercy Hospital di Bakersfield. TMZ diffonde poco dopo la notizia che i medici lo considerano troppo debole per essere operato e viene quindi riportato in carcere il 6 gennaio e sottoposto a cure che però non lo aiutano molto. Infine, il 19 novembre 2017, dopo essere stato ricoverato di nuovo per pochi giorni, Charles Manson muore a causa di un arresto cardiaco all'età di 83 anni. Aveva da tempo un cancro al colon. La sua salma e i suoi effetti personali vengono reclamati da ben tre persone. Il primo è suo nipote, di nome Jason Freeman. Il secondo invece è Michael Channes, un amico di lunga data che ha una lettera, datata 14 febbraio 2002, nella quale Charles gli lascia tutti i suoi beni e il suo cadavere. Mentre il terzo, infine, è un altro amico di nome Ben Gureki. Anche lui ha una lettera simile, ma datata a gennaio 2017. In questa lettera Manson nomina come suo unico erede, non lui e nessuno dei tizi precedenti, ma un certo Matthew Roberts, un suo presunto figlio. Insomma, anche dopo la morte lascia nei problemi moltissima gente. Il 12 marzo 2018 le autorità giudiziarie della contea di Kern decidono che il primo dei tre, ovvero Jason Freeman, può avere il suo corpo. E quest'ultimo lo fa cremare il 20 marzo 2018. Ma come ho detto poco fa, anche dopo la morte, Charles lascia nei casini tantissima gente. Infatti nel 2009, un uomo di Los Angeles, proprio quel Matthew Roberts, riesce a risalire ai suoi veri genitori. Era stato adottato in tenera età ed era cresciuto nell'Illinois. Ebbene dopo anni, grazie a un test del DNA, scopre di essere uno dei figli di Charles Manson. A 11 anni Matthew aveva scoperto da sua sorella di essere stato adottato, ma si era messo alla ricerca dei suoi genitori biologici solo nel 97, nonostante il padre adottivo gli avesse suggerito di non farlo. Lui, prima di scoprire la verità, era sicuro che la scoperta lo avrebbe aiutato a conoscere meglio se stesso. Invece, conoscere l'identità del suo padre biologico lo ha gettato in una profonda depressione. Queste sono le sue parole. Non ci volevo credere, ero spaventato e arrabbiato allo stesso tempo. È stato come scoprire che tuo padre è Adolf Hitler. Matthew scopre anche chi è sua madre attraverso un'agenzia di servizi sociali, così la contatta e va da lei per farsi raccontare tutta la loro storia. In questo modo scopre che lei e Manson si conobbero nel 67 a San Francisco, quindi nei primi anni in cui la family stava pian piano crescendo. Insomma, nonostante il trauma di aver scoperto di essere il figlio di uno dei più crudeli assassini d'America, Matthew si definisce un pacifista. Quando Manson era ancora in vita ha provato a scrivergli delle lettere e Charles ha sempre risposto, confermando di essere suo padre. Ma nelle risposte di Charles c'erano anche scritte cose letteralmente folli e si firmava con una svastica. Insomma, non è proprio il padre ideale con cui scambiare due chiacchiere. E niente, questa in teoria dovrebbe essere la fine del caso, ma in realtà c'è una novità proprio freschissima. Ricordate Leslie Van Uten? Era una di quelli adepti che ha partecipato agli omicidi la bianca. Ecco, Leslie il 12 luglio del 2023 è stata rilasciata in libertà condizionale dopo 53 anni di carcere. Era stata soprannominata all'angelo della morte dalla family e aveva solo 19 anni quando venne arrestata. La donna oggi di anni ne ha 72 e dice di essere grata che la gente riconosca che non è più la stessa persona di quando ha commesso gli omicidi. Ma sarà davvero così? Vabbè, in effetti ha una certa età e ha passato praticamente tutta la sua vita in cella. Comunque non saprei. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutta questa storia perché io, sinceramente, oggi ho già parlato abbastanza. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto andrò in Giappone. L'ho detto. Non so ancora cosa filmerò lì, cercherò di portarvi con me in qualche modo tramite YouTube, soprattutto tramite Instagram, quindi se volete vedere tutte le mie avventure vi aspetto anche su Instagram. E non preoccupatevi perché presto ci andremo anche insieme e proverò ad organizzare un benedetto tour con voi. Quindi, ora più che mai, spero che rimarrete nei paraggi. Per cui, se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!